Ciao a tutti, oggi faremo un video di come fare una bottiglietta vedete, lì c'è una piccola bottigliettina che potete comprare anche ai cinesi oppure, non lo so, se avete qualche negozio che vende queste cose, potete andare a prendere prima di tutto ci serve un barattolino piccolino poi se dovete mettere qualcosa qui dentro tipo io metto l'olio per i capelli oppure altre cose, anche più grandi si possono comprare quindi non c'è problema prima di tutto ci servirà questo barattolino come potete vedere qui c'è l'olio per i capelli e adesso lo resterò qui dentro ok, ho versato guardate qui, bello e adesso tappo con il suo cioè con il suo barattolino cioè con il suo tappo e lavo perché dato che l'olio è tutto limpido limpide, non so con il termine come lo usate voi ho lavato adesso dopo aver fatto questo ci servirà, ci servirà scusatemi adesso ci serviranno le forbici dobbiamo tagliare un pezzetto di foglietto io lo taglio così perché ce l'ho così però voi lo potete tagliare come lo volete basta che non ci sono queste strisce ma che è tutto bianco in foglio come volete anche così a righe piccole, a righe grandi basta che, come volete voi basta che si vede la scritta come volete, come si chiama la vostra come volete mettere nel barattolo ok, ho tagliato adesso giro e mi servirà una penna allora, il mio è olio il vostro non so com'è io scrivo olio per i capelli così capisco cos'è perché se avete tanti baratti non sapete cos'è almeno c'è scritto cos'è ok, ho messo e più scrivo il mio nome perché se ci avete tante non lo so tanti se ci avete io mi chiamo Martina se ci avete tante Martine in casa scrivete Martina prima Martina non lo so però io mi scrivo il mio nome perché così sanno che cos'è ok adesso prendo questa colla questa colla scusatemi dicevo prendo questa colla aspettate che l'arco un attimo ok prendo questa colla e metto la colla di qua di dietro io non ci riesco molto bene lo metto un attimo qua aspettate ok ho incollato ho messo la colla e adesso prendiamo il barattolino e lo facciamo vedere così quindi è molto già lo metto bello dritto magari voglio lo tagliate un po' dritto e non si vedono queste cose perché se no però lo sballo perché se ve lo dovete portare voi lo tagliate un po' più dritto io in questo caso per farvi vedere ecco qui il nostro barattolino molto bello devo dire questo lo lasciate qua olio per i capelli di martino quando poi lo aprite mettete un pochino un goccello d'olio e questo è il barattolino quando non avete da mettere olio o qualcos'altro se vi è piaciuto questo video lasciate un pollice pollice scusate pollice ho detto e se volete iscrivetevi al canale che farò sempre farò sempre invenzioni io vi do un bacino e ci vediamo al prossimo video ciao ciao